Torniamo sul tema della fatica da pandemia. In un primo video abbiamo parlato dei fattori che la causano e lo potete vedere andando sul sito antoniozuliani.it. Oggi vediamo gli effetti a medio e lungo termine che questa fatica può determinare. A mio parere sono principalmente 2022. Il primo riguarda la crescente intolleranza verso le regole di difesa del contagio. Si tratta di un aspetto che non riguarda solo i negazionisti, quelli che dichiarano che non si vaccineranno o i soggetti che consideriamo irresponsabili. Ma si va a trovare le sue radici dell'idea che tanto non si può fare nulla. Aspetto legato alla componente angosciosa connessa della pandemia stessa. Oppure che sia il più forte del virus stesso. Si tratta di un'esperienza che Cabillus descrive già nel 1947 nella sua opera La peste, dove scrive «La conseguenza più grave dello sfidimento che pian piano prendeva tutti coloro che continuavano la lotta contro il fragello non era tanto questa indifferenza agli eventi esterni o alle emozioni altrui, quanto la trascuratezza cui si lasciavano andare. Sicché questi uomini si ridussero troppo spesso a ignorare le norme igieniche da loro stesse stabilite». La seconda conseguenza è la riduzione della solidarietà sociale, che ha trovato una prima e in parte giustificata, spinta da parte di coloro che hanno protestato per la chiusura delle loro attività economiche, mentre altre rimanevano aperte. Ora la vediamo in modo più inquietante nella non disponibilità che si sta manifestando in alcune zone italiane ad ospitare nei propri ospedali malati provvedienti da altri territori o nella guerra idatto tra le regioni. Queste situazioni sono capaci di produrre un disagio che può diventare profondo e cui effetti si possono prolungare per un tempo ben più lungo del termine della pandemia. Per questo occorre esaminare con attenzione ciò che sta accadendo e cercare di mettere in atto delle strategie che ci aiutino. Ma su questo dedicheremo un video specifico.